Buongiorno, oggi parliamo di realizzazione di plastici in uno studio di architettura. Vi do qualche indicazione di fondo, poi James vi introdurrà più nel dettaglio dei contenuti dell'incontro di oggi, rispetto a quelle che sono le aspettative che un titolare di studio ha nei confronti dei plastici che fanno in uno studio di architettura. Intanto c'è da dire che i plastici si fanno negli studi, in generale si fanno con due obiettivi diversi. Il primo è quello di fare un plastico per un cliente, quindi un plastico finale per un cliente che ha determinate caratteristiche e che quindi parla a un osservatore che non è un tecnico. E poi ci sono dei plastici di studio e questo dipende dalla modalità di lavoro all'interno di diversi studi. Noi per esempio non facciamo molti plastici di studio, però ogni tanto ne facciamo. e facciamo però qualche volta dei plastici per il cliente, che possono essere plastici diciamo finali oppure plastici anche intermedi, magari come dire non rifiniti, ma per far comprendere certi aspetti volumetrici, certi aspetti del progetto. Questo perché per esempio i clienti capiscono molto di più un plastico che non un disegno. Quindi è molto importante capire qual è l'effetto di presentare un progetto, magari planevolumetrico, masterplan, con un plastico anche schematico a un cliente, capendo che la materia fisica, cioè il fatto di avere degli oggetti fisici, sebbene piccoli e ridotti, presenti fisicamente, dà una concretezza alla comunicazione che si vuole dare, molto percepita, facilmente percepita dal comitè. Tra l'altro questo è un tema che riprenderemo anche nel prossimo incontro, dal due venerdì, dove appunto io vi parlerò della narrativa e quindi è l'occasione di parlare della psicologia, del rapporto con il committente, che è importante per un titolare, ma è importante anche per una persona che comincia nello studio di architettura, perché è un punto di vista che è molto apprezzato, e che condiziona anche le scelte che si fanno nei disegni e nel materiale che si deve preparare. Comunque, tornando ai plastici, qui sono questi plastici, diciamo, per il cliente, che possono essere rifiniti, finali, oppure intermedi, molto schematici, e poi i plastici di studio, plastici di studio che servono per capire certi aspetti del progetto, però diciamo, dipende poi dalla modalità, sono studi che lavorano più col 3D, tipo SketchUp come noi per esempio, e studi invece che si trovano meglio a fare dei plastici di studio, però non è per esempio il nostro caso, se non li facciamo plastici di studio, li facciamo molto raramente, magari per dei concorsi, così. Ecco, quali sono le caratteristiche importanti nel fare un plastico? Allora, innanzitutto, la prima, sono due fondamentalmente, la prima è la velocità, la rapidità. Un plastico che viene realizzato in un tempo troppo lungo non serve, che sia esso di studio, sia esso per il cliente, non serve. L'elemento principale deve essere la rapidità, e quindi per essere rapidi nel plastico bisogna conoscere alcuni, non dico trucchi, ma alcune scorciatoie, ed è tutto lì per poter realizzare, poter dare l'idea di certi materiali in maniera efficace e soprattutto rapida. La rapidità è un elemento essenziale delle azioni ai plastici. Se un plastico è rapido, non serve. L'altro elemento è la precisione del taglio. Ecco, questo è un altro aspetto importante. La precisione del taglio è un elemento che, poi James, magari ve ne parerà meglio, è molto importante per definire gli aspetti materici, perché il taglio di qualsiasi materiale definisce uno spessore, una sezione, quindi rivela la materialità dell'oggetto, che ha un effetto in scala e un effetto nella realtà. Quindi questo è un aspetto importante. E diciamo il terzo, nel giungere il terzo, è la scelta dei materiali, perché è ovviamente la scelta del materiale che non è relazionato ai materiali che effettivamente si utilizzeranno, ma agli materiali che sono più efficaci per rappresentare quello specifico progetto che viene realizzato con quei specifici materiali. Comunque, di questi dettagli poi ve ne parlerà più estesamente James, però ci tenevo a darvi questi piccoli, come dire, suggerimenti, questi piccoli dicetti di impostazione nella comunicazione di oggi. Quindi io vi lascio adesso a James e a quello che vi dirà e noi ci diamo appuntamento tra due venerdì dove io vi parlerò appunto della narrativa e della presentazione dei progetti. Buona lezione. Ciao.